Presidente, Olimpiadi, esattamente tra una settimana la decisione parte una campagna sui social? Parte questa campagna che è stata promossa da Zaya, da me, da Sindaco Sala e Ghilina per cercare di avere un ulteriore spunto, un ulteriore appoggio, anzi vi invito tutti quanti a partecipare perché credo che la presenza di tante persone rafforzerebbe ulteriormente la nostra candidatura. Già lei ha detto avere tanti italiani, tanti lombardi, favorevoli e un valore aggiunto? Un grande valore, io credo che ci siano due risultati importanti, il primo che il nostro dossier è stato valutato in maniera ultra positiva direi che è stato dato dal nostro dossier un giudizio molto molto positivo e poi il fatto che più dell'80% dei cittadini italiani siamo favorevoli ad ottenere, ad avere sul proprio territorio questa grande manifestazione è un altro punto a nostro favore. Sabato e domenica lo sanno a convincere gli ultimi indecisi, ci ha spiegato? Parlare con le persone ancora indecise e rappresentare i lati positivi di questa nostra proposta. Ma guardi questo non lo so, vedremo, sicuramente qualcuno ha già dimostrato di essere indeciso o qualcun altro lo scopriremo sul posto.